Con lo stop del fermo pesca gli armatori abruzzesi possono finalmente tornare in mare. A Pescara, tra ieri sera e stamattina, in una tiepida giornata di fine estate che si appresta a passare il testimone all'autunno, circa il 40% dei pescarecci ha scelto di uscire dal porto, mentre gli altri prenderanno il largo dal lunedì 26 settembre, navegando però verso un orizzonte pennellato di nubi poco rassicuranti come quella del caro Energia. Nonostante la lieve diminuzione del costo del carburante, chiusa la parentesi estiva con i turisti che affollavano i ristoranti, ora le vendite del pesce hanno iniziato a calare perché le famiglie, per poter arrivare a fine mese, decidono di tagliare i costi, anche quello del carrello della spesa. L'aumento del 20-25% del prezzo del pesce ha infatti portato a un dimezzamento dei consumi con la conseguenza di un pericoloso avvitamento e a farne le spese sono in primis gli armatori che in mare vanno a procacciare non solo pesce per i consumatori ma anche uno stipendio per sfamare le proprie famiglie. Pari idee di Girolamo, armatore, qual è lo spirito con cui si torna in mare? È lo spirito come quello che abbiamo lasciato prima nel fermo se non peggio, problemi nel gasolio, problemi nella commercializzazione del pesce, problemi che abbiamo al porto col dragaggio e tutte le problematiche che abbiamo lasciato non sono state risolte, sono le stesse. Com'è cambiata la situazione nel corso degli ultimi mesi? Anche con tutti questi rincari si vende anche meno forse? Certo, sicuramente il pesce ce n'è, ce n'è anche abbastanza e purtroppo la commercializzazione che abbiamo, tutti questi quintali e tonnellate di pesce che arrivano da fuori, quindi il prodotto nostro fresco non viene valutato e quindi andiamo in mare già svogliati che sappiamo che a casa non portiamo nemmeno una bagnotta di mare per i nostri figli. Quanto costa adesso il gasolio? Un euro, un euro zero cinque, si aggira così quasi a tutte le parti ma è sempre troppo. Quanto costava prima? Tre anni fa forse stava 40, 45, 50, man mano è cresciuto, adesso è arrivato fino a 1,30 euro, è sceso 20 centesimi, non è quello che ci salvano, mai siamo alla frutta. Quindi adesso uscire con un pescareccio quanto costa? Dipende dalle bike, sono imbarcazioni che hanno almeno 4.000 euro, 3.500 euro di spese al giorno da carburante, stipendi per i marittimi, contributi e quindi se non porti la media di 4.000 euro al giorno non ci esci, quindi molti armatori non esceranno nemmeno più, lasceranno le imbarcazioni attaccate alla banchina. Sono quasi 40 anni che vado in mare, le problematiche ci sono sempre state, io ero ottimista ma adesso sono diventato pessimista perché sto vedendo che questo non c'è via d'uscita. Speriamo che questi governi che subentreranno adesso con queste votazioni premano in Europa per mettere un prezzo minimo al gasolio come il gas, perché io penso che nel giro di 2-3 mesi le imbarcazioni rimarranno tutte in base alla banchina, attaccate, perché non si può andare più avanti. Questo porterà più spese al governo, perché i marittimi che stanno imbarcati andranno in gas di decrazione, in disoccupazione, quindi si influirà ancora più costi sul governo per le spese che dovrà cacciare il governo. Troppo è questa la strada. Ma non sono solo gli armatori ad auspicare l'intervento del governo per calmirare i prezzi. Per chi è cascata, i problemi del comparto della pesca si riversano anche sui carrelli della spesa e sulle tavole dei ristoratori, che chiusa la parentesi estiva che ha mascherato la crisi, ora attendono con trepidazione il mese di ottobre come un banco di prova, per capire se anche i propri menù dovranno subire rincari per far fronte all'aumento delle spese. Giovanni Collini, il ristoratore, se prima le famiglie si concedevano il pranzo o la cena di pesce, adesso dovendo decidere di pagare il riscaldamento o una cena di pesce, sceglieranno magari la prima? Assolutamente sì, la stagione estiva ha un po' mascherato questo problema. Ora d'inverno la cosa si inizia a fare serio, cioè se prima un cliente diceva vado a mangiare tre volte al mese, in questo caso da me da Attilio, con adesso il riscaldamento e quant'altro dice ci posso andare una volta sola, giustamente va a gravare anche sulla mia attività e quindi il mese di ottobre sarà per me una bilancia per valutare tantissime cose. Che futuro si immagina? Attualmente la vedo nera, io spero che il nuovo governo possa intervenire seriamente, e dico seriamente, su questo la prima cosa è l'energia e il gas. Io lo spero perché, ripeto, valuterò l'invernata se conviene a questo punto stare aperti o chiudere la parte invernale, quindi in questi 5-6 mesi, e mandare a casa purtroppo diverse famiglie.